le stelle di azus benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di azus l'oroscopo di venerdì 6 settembre ariete altra giornata piacevolissima grazie alla luna in sagittario riuscirete a tirare fuori il meglio di voi stessi risultando irresistibili in amore toro una nuova collaborazione potrebbe rivelarsi davvero azzeccata specialmente se state avviando una nuova attività in amore cercate un dialogo sereno gemelli la luna è difficile vi rende meno scattanti sul lavoro ma potrebbe esserci l'occasione per iniziare una nuova collaborazione in amore trionfano le belle parole cancro mercurio è fantastico e vi permette di chiudere una trattativa da fare in maniera brillante potete anche incassare una somma di denaro inaspettata leone una buona notizia può arrivare sul lavoro mettendovi di buon umore ma attenti a non sopravvalutare una promessa la luna al primo quarto in sagittario mette in evidenza i sentimenti vergine in famiglia ci saranno degli avvenimenti che possono regalarvi belle emozioni dimostratevi generosi nei confronti delle persone che amate bilancia una bella luna rende piacevole la giornata sarete di ottimo umore la vostra compagnia sarà un piacere per tutti in serata dedicatevi al partner scorpione le questioni finanziarie sono una preoccupazione per voi non riuscite a vedere i risultati del vostro lavoro per ottenere di più però ci vuole un pizzico di umiltà sagittario il primo quarto di luna nel vostro segno vi regala un'altra ottima giornata sarete molto attivi sul lavoro e qualcuno può sperare anche in un incasso extra capricorno plutone marte così energici vi aiutano a contrastare una leggera vena malinconica che da qualche giorno vi pervade non rivangate il passato acquario un breve viaggio vi darà soddisfazione specie se di natura professionale una proposta innovativa andrebbe valutata senza bocciarla a priori pesci è il giorno giusto per esprimere una vostra idea ed iniziare una nuova avventura professionale in amore allargate gli orizzonti il più possibile e con l'oroscopo di oggi è tutto le stelle di azus vi augurano buona fortuna e vi invitano su facebook alla pagina oroscopo di azus